Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 12 dicembre. Ariete, un viaggio può darvi delle soddisfazioni incredibili sia sul lavoro che in amore. Arriveranno notizie molto interessanti che avranno la forza di rendervi ottimisti. Toro, è il momento di agire in maniera risoluta sul lavoro. Gli affari che state seguendo avranno un'accelerazione decisiva e anche in amore sarete molto più disponibili. Gemelli, succedono tantissime cose intorno a voi e spesso avete talmente tanti impegni da andare in confusione. Dovete essere bravi a fare una scelta precisa. Cancro, la luna nuova in Sagittario può sbloccare definitivamente delle situazioni stagnanti sul lavoro. È il giorno buono per rilanciare un'idea che avevate accantonato. Leone, luna spettacolare che vi invita a cercare una nuova strada, ad esplorare nuovi orizzonti. Anche in amore fareste bene a non fossilizzarvi su storie sbagliate. Vergine, situazione domestica molto complessa. Quando siete costretti ad occuparvi dei problemi quotidiani diventate nervosi, ma non potete far finta che non esistano. Bilancia, riuscirete finalmente a far quadrare i conti sul lavoro e a dialogare con gli altri in maniera più serena. Riceverete anche buone notizie. In amore vivete belle emozioni. Scorpione, il lavoro sta diventando il centro del vostro mondo. Gli impegni sono moltissimi, così come le soddisfazioni. Attenti però a come scegliete i vostri collaboratori. Sagittario, Marte ci mette del suo per complicare la situazione sul lavoro, ma grazie alla luna nuova nel vostro segno, riuscirete ad affrontare ogni problema con serenità. Capricorno, la luna in Sagittario può offuscare un po' la vostra mente. Dovete raddoppiare gli sforzi se non volete incorrere in qualche grossolano errore di valutazione. Acquario, grazie alla luna la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Si manifesterà attraverso un'amicizia. È arrivato il momento di prendersi delle rivincite. Pesci, con la luna nuova in Sagittario, è possibile che ci siano delle novità importanti sul lavoro. Voi però sarete fin troppo nervosi ed aggressivi, anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook, alla pagina Oroscopo di Azus.